E' spareggio salvezza al Renato Ruggeri fra Pontevomano appena tre lunghezze dal bacicalupo occasione golosa per la banda di Walter Piccioni che alla fine riuscirà nell'impresa avvio di gara decisamente di colore giallo-nero che fa capire subito le velleitate padroni di casa al primo il palo di Tourette dal lato opposto a quello di tiro e portiere battuto con palla che prosegue la sua corsa in campo ma senza esiti al settimo sfera nel corridoio di Polisena che calcia sicuro ed impegna Marconato in angolo quarto d'ora ancora Marconato a smanacciare il diretto di Valentino Cernaz dal piazzato sul lato corto dell'area di rigore il gol insomma è nell'aria la pressione giallonera è evidente al ventesimo trova compiutezza nel bel tiro di Tourette che non lascia scampo a Marconato 1-0 4 minuti per i padroni di casa che con caparbietà dopo il vantaggio cercano e trovano il raddoppio sulla respinta Valentino Cernaz prova corta di Marconato Polisena e un falco e praticamente infila la palla del 2-0 tira il fiato il Pontevomano mentre i Granata provano ad approfittarne ma senza creare pericoli a Gava riposo e ripresa che dall'ottavo trova il solito Polisena che punta lo specchio la mano di Marconato intercetta Pontevomano padrone del campo Granata poco consistenti e carenti del proverbiale mordente che non fa granché per riaprire il match e nemmeno con i cambi allora al minuto 24esimo è la seconda volta di Tourette implacabile in area a mettere alle spalle per il triplice vantaggio giallonero al 32esimo c'è una sortita Granata Davide Santone è lesto ad inserirsi tra portiere e difensore ed appoggiare comodamente in rete la gol della bandiera insomma il Vasto Marina prova a riaprire il match ma in realtà non cambia nulla e nemmeno le gerarchie nulla di più anzi al 47esimo il Vasto Marina concede una ripartenza ai locali la solo di Polisena Marconato si oppone e va fuori dai pali raccoglie Troiani che chiude definitivamente il match con la rete del 4 a 1 Mister operazione a gancio riuscita con una bellissima gara intensa e comunque che è andata proprio all'obiettivo forse era scontento per il gol che ha preso sì ero arrabbiato più che altro per il gol preso perché se vogliamo raggiungere un obiettivo non bisogna mai mollare secondo me abbiamo fatto 60 minuti strepitosi siamo partiti forti abbiamo avuto penso 4-5 palle gol nei primi 15 minuti era quello che avevo detto abbiamo lavorato bene in questa sosta abbiamo fatto tanti sacrifici per gente che aveva covid gente che è rientrata da pochissimi giorni però questo è l'atteggiamento giusto di una squadra che purtroppo sta pagando le sette partite con zero punti e quindi la strada è ancora lunga però se vogliamo avere una possibilità che sia una l'atteggiamento deve essere quello di oggi perché secondo me ripeto abbiamo approcciato bene avevamo il sangue agli occhi come dico a loro la fame, la cattiveria e quello in questo campionato fa la differenza Adesso bisogna continuare Ma sì stiamo facendo nell'ultimo periodo bene ma se guardiamo la classifica ancora siamo dentro con tutti e due i piedi sabato abbiamo uno scontro diretto altrettanto fondamentale con il Delfino ma ripeto noi a prescindere dall'avversario dobbiamo guardare la prestazione nostra sicuro per 60 minuti la squadra mi fa ben sperare e credo quantomeno che ce la possiamo giocare fino alla fine peccato per il gol preso perché dico ai difensori che devono avere l'incubo di prendere i gol che devono stare concentrati per 95 minuti e quindi se devo trovare una pecca è quello di aver preso gol in una partita secondo me dominata secondo me non siamo mai scesi in campo e a questo punto dire mi assumo l'abbiamo, non sono stato capace io a infondere quelle che erano le problematiche il campo è relativamente un campo sul quale non si poi va a calcio su questo campo si gioca oggettivamente un altro sport naturalmente una squadra che si allena qui tutti i giorni ha dei riferimenti sia a spazio tempo diversi anche rispetto delle relative dinamiche di gioco quindi la palla, tante cose e quindi fanno meno fatica ma questo non deve essere una scusante anche perché oggettivamente non abbiamo vinto un rimpallo non abbiamo preso palla su una seconda palla paradossalmente siamo andati meglio quando c'è entrata un po' in campo un po' di gioventù e quindi l'ho vista un po' meglio classifica che scotta? ma no, ma che noi si debba salvare magari ecco anche alla penultima giornata si sapeva quindi alla fine uno non ci può stare assolutamente quindi non deve essere né un problema né come dire non ci deve condizionare dobbiamo essere solo convinti delle nostre qualità dei nostri mezzi anche comunque obiettivamente anche complimenti al Ponte Romano che comunque ci ha creduto ha fatto il suo aveva oggettivamente più assolutamente più fame e più motivazione in generale quindi alla fine bisogna anche riconoscere questo non bisogna essere valore dell'avversario esatto su questo campo ha espresso le proprie qualità i propri valori e le proprie attitudini